In questo tutorial vediamo delle espressioni di potenze di numeri razionali. Partiamo da questo primo esercizio. Come prima cosa fisso l'attenzione su questa moltiplicazione. Posso applicare le proprietà delle potenze in quanto i due fattori hanno lo stesso esponente che è pari a 4. E allora apro la quadra e riscrivo i due fattori in un'unica parentesi tonda. Meno 3 quinti per 5 noni. Tutto quanto alla quarta. Poi per ricopio meno un terzo alla settima chiudo la quadra diviso. Qui ho una potenza di potenza e allora posso moltiplicare 5 per 2 e vado a scrivere meno un terzo elevato alla decima. Ora fisso l'attenzione all'interno di questa parentesi tonda. Semplifico 5 con 5 e poi posso semplificare 3 con 9. 3 diviso 3 è 1. 9 diviso 3 è 3. Eseguo ora questa moltiplicazione. Apro la quadra, apro la tonda, ricopio questo segno meno. 1 per 1 ottengo 1 fratto 1 per 3 ottengo 3. Tutto quanto alla quarta. Il resto lo ricopio. Ora eseguo questa moltiplicazione. Posso applicare le proprietà delle potenze in quanto gli argomenti sono gli stessi. E allora posso sommare 4 con 7 ed ottengo 11. E allora apro la tonda e scrivo meno un terzo elevato alla 11 diviso meno un terzo elevato alla decima. Ora devo eseguire questa divisione. Gli argomenti sono gli stessi e allora posso applicare le proprietà delle potenze. 11 meno 10 è pari a 1 e allora scrivo meno un terzo alla 1. Meno un terzo alla 1 risulta essere proprio meno un terzo. Passiamo a questo secondo esempio. Come prima cosa fisso l'attenzione all'interno di questa parentesi tonda. Conviene riscrivere 125 e 27 come potenza il primo di 5, il secondo di 3. E allora apro la graffa, apro la quadra. 125 è pari a 5 alla terza fratto 27 è pari a 3 alla terza. Tutto quanto alla seconda. Per 4 venticinquesimi conviene scriverlo come potenza il primo di 2 e il secondo di 5. E allora apro la tonda e scrivo 2 alla seconda fratto 5 alla seconda. Chiudo la tonda alla terza tutto quanto alla quarta. Poi diviso. Apro la quadra. Qui eseguo la obbligazione. 1 per 4 ottengo 4 fratto 9 poi per 2 terzi. Poi chiudo la quadra. Alla quinta chiudo la graffa diviso 2 terzi all'ottava. Ora all'interno di queste parentesi tonde osservo che posso mettere in evidenza la potenza 3 che vado a scrivere fuori. E allora cancello questo 3, cancello questo 3 e scrivo per 3. Eseguo ora questa moltiplicazione. 2 per 3. Eseguo ora questa moltiplicazione, ossia una potenza di potenza. Apro la graffa. Apro la quadra e scrivo 5 terzi elevato alla sesta. In questa parentesi tonda osservo che la potenza 2 può essere messa in evidenza. E allora posso cancellare questo 2 e questo 2 e scriverlo al di fuori della potenza. Eseguo questa moltiplicazione, ossia ho una potenza di potenza ed ottengo 2 quinti elevato alla sesta. Poi diviso 4. Diviso. Apro la quadra. Moltiplico 4 per 2 ed ottengo 8 fratto 9 per 3 ed ottengo 27. Il resto lo ricopio. Ora per eseguire questa moltiplicazione posso applicare le proprietà delle potenze. Ho lo stesso esponente 6. E allora ricopio questi due fattori all'interno di un'unica parentesi tonda. Ricopio 5 terzi per 2 quinti, tutto quanto alla sesta, tutto quanto alla quarta. Diviso. 8 ventisettesimi mi conviene riscriverlo come potenza. In particolare 8 come potenza di 2, 27 come potenza di 3. E allora apro la quadra e posso scrivere 2 alla terza fratto 3 alla terza, tutto quanto alla quinta. Chiudo la graffa diviso 2 terzi all'ottava. Ora qui all'interno posso semplificare 5 con 5 ed eseguo questa potenza di potenza. 6 per 4 ottengo 24 e allora apro la graffa. Posso aprire una tonda e scrivere 2 terzi elevato alla ventiquattresima. Qui posso mettere in evidenza la potenza 3. Semplifico 3 e 3 e vado a scriverlo al di fuori della parentesi quadra. Moltiplico 5 per 3 ed ottengo 15 e allora posso scrivere 2 terzi elevato alla quindicesima. Poi diviso 2 terzi all'ottava. Per eseguire questa divisione posso applicare le proprietà delle potenze. La base è la stessa e allora calcolo la differenza tra gli esponenti. 24 meno 15 è pari a 9 ed ottengo allora 2 terzi elevato alla nona. Diviso 2 terzi all'ottava. Per eseguire questa divisione posso di nuovo applicare le proprietà delle potenze. Ho la stessa base che è pari a 2 terzi e allora calcolo la differenza di 9 con 8 ed ottengo 1 e quindi ho 2 terzi elevato alla 1 e 2 terzi alla 1 risulta essere 2 terzi. Vediamo questo terzo esempio. Come prima cosa fisso la tensione all'interno di queste parentesi quadre. Osservo che i due fattori hanno lo stesso esponente che è pari a 2 e allora applicando le proprietà delle potenze posso riscrivere i due fattori in un'unica parentesi tonda. Un quarto per due quinti alla seconda ossia l'esponente che avevano in comune. Poi tutto quanto alla terza diviso meno un quinto alla sesta e chiudo la graffa. Poi per ed ora fisso la tensione all'interno di queste parentesi quadre. Per eseguire questa divisione posso applicare le proprietà delle potenze. I due termini hanno lo stesso esponente 6 e allora li posso riscrivere all'interno di un'unica parentesi. Due terzi diviso meno un terzo tutto quanto alla sesta. Ora qui posso semplificare due con quattro. Due diviso due ottengo uno. Quattro diviso due ottengo due. Eseguo potenza di potenza. Due per tre è pari a sei e allora apro la graffa ed ottengo un decimo avendo moltiplicato due per cinque elevato alla sesta. Poi diviso. Qui mi conviene distribuire la potenza sei. Meno elevato a un numero pari ottengo più e quindi non scrivo nulla e poi ricopio un quinto alla sesta. Apro la tonda e scrivo un quinto alla sesta e chiudo la graffa. Per apro la quadra ed ora qui da diviso passa per e allora scrivo due terzi per. Questo segno meno lo scrivo qui di fronte e il reciproco di un terzo risulta essere pari a tre. Chiudo la quadra alla sesta. Posso semplificare tre con tre e quindi scrivo uno e scrivo uno. Per eseguire questa divisione osservo che posso applicare le proprietà delle potenze. Ho lo stesso esponente che è pari a sei e allora posso scrivere all'interno di un'unica parentesi tonda. Un decimo diviso un quinto tutto quanto alla sesta. Poi per quello che rimane qui è meno due alla sesta. Apro una tonda scrivo meno due alla sesta. Osservo ora che le parentesi graffe non mi servono più e qui da diviso passa per e scrivo un decimo per il reciproco di un quinto è pari a cinque elevato alla sesta per. Qui mi conviene distribuire la potenza sei meno elevato a un numero pari ottengo più quindi non scrivo nulla. Quello che ricopio è due alla sesta. Ora semplifico cinque con dieci. Cinque diviso cinque ottengo uno. Dieci diviso cinque ottengo due. Ho così un mezzo alla sesta per due alla sesta. Per eseguire questa moltiplicazione osservo che posso applicare le proprietà delle potenze in quanto i due fattori hanno lo stesso esponente sei. E allora li vado a riscrivere in un'unica parentesi tonda. Un mezzo per due elevato alla sesta. Semplifico due con due. Quello che resta è uno alla sesta. Ossia uno. Passiamo a questo quarto esempio. Come prima cosa eseguo questa moltiplicazione. Apro la graffa. Apro la quadra. visto che due fattori hanno la stessa base e un quarto posso applicare le proprietà delle potenze e sommare due con tre e scrivere un quarto elevato alla quinta. Tutto quanto alla seconda. Per. Qui mi conviene distribuire la potenza dieci meno elevato al numero pari ottengo più e poi ricopio quattro quinti alla decima. E chiudo la graffa. Diviso. Apro la quadra. Per eseguire questa moltiplicazione conviene distribuire la potenza cinque e scrivo tre alla quinta fratto venticinque alla quinta per uno fratto tre alla terza e chiudo la quadra. Ora posso semplificare tre alla quinta con tre alla terza. Applico le proprietà delle potenze. Cinque meno tre è pari a due e allora semplifico tre alla terza. Semplifico il cinque e quello che resta è tre alla seconda. Ora qui eseguo potenza di potenza. Cinque per due ottengo dieci. Apro la graffa e scrivo un quarto elevato alla decima per quattro quinti elevato alla decima e chiudo la graffa. Poi diviso. Apro una tonda. Tre alla seconda lo ricopio così com'è. Fratto. Osservo che venticinque è pari a cinque alla seconda. Visto che abbiamo venticinque elevato alla quinta avremo cinque alla seconda alla quinta. Due per cinque è pari a dieci e allora possiamo scrivere cinque alla decima. Ora eseguo questa moltiplicazione. I due fattori hanno lo stesso esponente dieci. Posso scrivere allora i due fattori all'interno di un'unica parentesi tonda. Un quarto per quattro quinti alla decima. Semplifico 4 con 4 e poi qui da diviso passo a per cinque alla decima fratto tre alla seconda. Eseguo ora questa moltiplicazione. Uno per uno è pari a uno e uno alla decima è pari a uno. Fratto uno per cinque ottengo cinque e poi elevo alla potenza dieci per cinque alla decima fratto tre alla seconda. Posso semplificare cinque alla decima con cinque alla decima. Quello che resta è uno fratto tre alla seconda, ossia un nono. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa fisso l'attenzione su questo termine e questo termine meno elevato a un numero pari ottengo più, quindi qui al posto di meno posso scrivere tranquillamente più e lo stesso ragionamento lo posso fare qui. Meno elevato a un numero pari ottengo più e quindi scrivo più un mezzo. Per eseguire questa divisione posso applicare le proprietà delle potenze visto che i due termini hanno lo stesso esponente che è pari a sei e allora apro la quadra e scrivo un quarto, da diviso posso scrivere direttamente per e poi vado a scrivere il reciproco di un mezzo, ossia due elevato alla sesta. Chiudo la quadra, poi diviso un mezzo elevato alla quarta. Osservo che qui ho una somma. Non avendo né una moltiplicazione né una divisione vado a sviluppare direttamente questa potenza e scrivo più un quarto. Semplifico ora due con quattro. Due diviso due ottengo uno, quattro diviso due ottengo due. Eseguendo la moltiplicazione si ottiene un mezzo alla sesta, poi diviso un mezzo alla quarta più un quarto. Per eseguire questa divisione posso applicare le proprietà delle potenze in quanto ho la stessa base che è pari a un mezzo e allora calcolo la differenza tra gli esponenti. Sei meno quattro ottengo due ed ottengo un mezzo alla seconda più un quarto. Sviluppo ora questa potenza. Un mezzo alla seconda è pari a un quarto più un quarto. Sommo ora i numeri ed ottengo quattro denominatore uno più uno, ossia due quarti. Semplificando si ottiene un mezzo. E con questo termino il tutorial su potenze di numeri razionali. Grazie. Grazie.